Chiudono le casette forzatamente, ma guardate, qui c'è uno spettacolo senza precedenti nel porto. Mai visti tanti pesci tutti in una volta, chissà perché, è come se fossero stati sfrattati anche loro. Scusate, sono il Giuliano Roma, non so che tipo di pesci siano, però mai visti tanti pesci così da disponibilità di tanto pescato come in questo momento. Qui siamo nel porto turistico, vicino alle casette, lo vedrà poco, andremo a vedere, perché sono belli i grossi pasciuti, mai visti, mai visti, mai visti. Guardate quanti pesci, tutta la banchina dell'ente porto, eccola qua, al sole di ottobre, guardate quanti pesci si vedono in acqua, mai successo, almeno noi non ricordiamo che siano così facili da prendere. Che sarà successo? Acque pulite? Lockdown? Vediamoci in compagnia di pesci che vedete appunto perché poi è stato già dal precedente servizio, adesso abbiamo appurato le motivazioni, perché l'acqua è calda, perché è un ottobre straordinario, quando è bel tempo, e perché l'acqua è pulita, perché ovviamente gli scarichi, le industrie che non hanno funzionato, allora meno scariche ed ecco qua i risultati. Mai tanti pesci così. E queste sono le tre casette che sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, dove aver per fortuna potuto così lavorare per tutta l'estate. La motivazione è stata ufficializzata, è come se fossero delle case in muratura, quindi non soltanto dei natanti galleggianti e basta, ma avrebbero avuto bisogno della licenza edilizia per fare quello che è stato fatto. Il problema sta nel precedente, che c'era stato a Rimini, dove per la prima volta vennero sistemate le caselle, qui si chiamano Acqua Resort, che hanno avuto un grande successo l'estate, e a Rimini vennero ugualmente sequestrate. Vennero multati anche quelli che vi stavano abitando in quel momento, da 100 a 3.000 euro. Poi ci fu una decisione collettiva di tutti quanti di fare ricorso attraverso uno studio legale e le casette a Rimini hanno riaperto. Era la Guardia di Finanza di Rimini, in quel caso, qui era la Guardia di Finanza di Pescara. La motivazione era la stessa, non potevano fare ricettività perché non avevano la licenza edilizia. E qui anche non possono fare ricettività come hanno fatto perché non c'era la licenza edilizia. Ricordiamo che sono state aperte a marzo, siamo ad ottobre, e adesso ci si è accorti che qualcosa non va. Come mai adesso? Perché adesso? Sono ovviamente amareggiati i titolari, i quali si sono rivolte allo studio legale Marconi, per procedere attraverso un ricorso e ottenere la riapertura di acqua resort. Vedremo come andranno le cose, le seguiremo.